REVISIONE MEME ragazzi oggi volevo portare un contenuto originale mai visto su youtube tranne che sul mio canale in realtà semplicemente mi ero appena rotto di avere 1.400 notifiche su telecam per tutte le meme che mi hanno accumulato per fare questo video e quindi raffreddato come sono iniziamo subito lo show migliore del web REVISIONE MEME ok ragazzi primo video capitano fa lei ahhh 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 secondo me è il miglior discorso motivazionale che abbia mai visto poi fate voi a me piaciuto un sacco che altro video? se lui lo so ahhh inizio inizio ahhh ahhh AHHHH oah Adesso andiamo a vedere un video, questo è 9 secondi, vediamo Bello, bello, questi video ignorantissimi che non hanno un senso, sono fantastici Vediamo quest'altro, però nell'orecchia sembra plazzo, bellissimo Fantastico, bellissimo, secondo me c'era plazzo comunque a riprendere, la vita è uguale Andiamo con un altro, altri video che sono sempre più belli No aspetta Pensavo che gli esplodesse in faccia, veramente gli è voluto tipo una cosa, non so che faccia avrò fatto, forse nessuna, però madonna mia Ho avuto paura per lui Harry Potter, oddio mio quando mi sta antipatico E' bello, bello perché è bello, vediamo E' bellissimo, davvero fantastico questo video, altro video a 7 secondi, molto bello secondo me, scarichiamolo, veloce ci sono perché è una connessione fantastica Now let's see how it looks so far Ho senso fantastico, questo titolo, questo io lo chiamerò Ovviamente questo urlo lo sto amplificato a 1000 Perché è bello, sfondare le mie orecchie Ok ultimo video, ultimo video FULL BAT POKEMON FULL BAT POKEMON FULL BAT POKEMON FULL BAT POKEMON Sombra cacchera Anzo e Lucio Anzo si dimentica magicamente come scalare le mura Anche sicuramente hai capito che spezza questa frase Se avete visto uno dei video di Jeff E' Lucio a cui si spegne la musica Niente ragazzi, mi sono liberato di un po' di notifiche Grazie a voi, grazie a voi Vi rimetto il cappuccio perché è più bello così Ecco, magari come fa più di più con l'orecchio da fuori No, no, sembro drogato così Beh ragazzi, che dire Se il video vi è piaciuto Like, commento, condivisione Pressione di iscriviti E detto questo, che dire, posto il telefono E nel prossimo video Ciao